600k è euro di patrimonio, dove ci si può andare in early retirement in maniera confortevole e perché? Provo a rispondere, ho letto qualcosa perché mi sembrava interessante, allora io cerco di non, i thread che mi segno non sono proprio blind blind, io lo leggo, spesso mi leggo anche il corpo del post, qualche commento, ma non vado molto in profondità, perché voglio tenermeli anche per essere un po' sorpreso durante la live, e provo a rispondere io, con 600.000 euro ovviamente è difficile, ipotizzando in Europa, non stiamo in America, non abbiamo il dollaro, abbiamo l'euro, il ritorno storico, se vogliamo essere un po', il safe withdrawal rate accettabile, non andiamo oltre il 3%, sono tasse un po' ovunque, a meno che non vai verso, credo, Bulgaria-Romania, Bulgaria-Romania, parliamo di un 3% di safe withdrawal rate, poi non sappiamo l'età di questa persona, non sappiamo altri dettagli, però un 3% sono 18.000 l'anno, 18.000 l'anno, 1.500 escluse tasse di ogni tipo, 1.500 al mese dove ci vivi, e stiamo anche parlando di condizioni abbastanza ottimistiche, 3% netto da investimenti, poi dopo il governo locale di, direi, non in Italia, oppure in Italia assieme all'amico nostro di prima. Commento principale, quanti anni hai? Non c'è stata nessuna altra informazione, hai moglie, figli? Quali sono le tue spese? What do you value? Troppe domande, sono stufo di fare le stesse domande stupide. A parte si può dare un consiglio lo stesso, si può dare comunque un'analisi lo stesso, l'avevo appena fatto io, si può dire a questo patrimonio quanto può permetterti di spendere l'anno, per quanti anni, e quindi un 3% si può portare avanti tranquillamente per 40 anni, ma è un po' ottimista, diciamo un 2,5% che fanno quindi 15k annui, quindi si può dire, guarda, la domanda è dove puoi vivere con 15k l'anno? A questo punto subentrano le domande, hai moglie, hai figli, sei l'unico che lavora, hai altri asset che non hai conteggiato in questi 600k, bla bla bla. Bulgaria, Polonia, Estonia, Vilnius è diventata popolare, Portogallo, non credo, Albania, sotto risponde però, dai dai dai, 15k in Turchia, campi da re. Non dimentichiamoci che comunque uno stranieri, è americano, si vuole trasferire, è già il cittadino europeo, cioè la sanità. Comunque, quanti anni hai? Sorry for my lazy question, you're right, sono single, ho 42 anni, 42 anni è già interessante, vuol dire che non è un ventenne, quindi 42 anni, è più giovane di me, però l'orizzonte temporale non è più 60 anni, direi, si può ipotizzare un orizzonte di 45-50, l'obiettivo è rilassare ed essere libero, eventualmente uscire con qualcuno, bere vino, tavernello, e via. Ok, Sicilia, ho gli occhi su un cottage di 5.000 metri quadri, wait, ah no, un cottage di un letto, un bagno, quindi un monolocale, ma che è anche 5.000 metri quadri di mezzo ettaro di terreno, che andrà all'asta a partire da 18.500 euro, bah, poveraccio, sono le case a un euro, è vivibile, ma ha bisogno di qualche ristorazione. You need an income of, I think, 24k a year to go residence, to get residency, bla bla bla. Great plan, please keep us post, bla 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 bla, Malta, non penso che in Sicilia ci vivi con queste cifre, non penso. 600k in Sicilia è una casa di proprietà, stai a cavallo, è una casa di proprietà, 600k, il 4%, il 4% è sbagliato, non si può assumere il 4%, veramente è un safe withdrawal rate che non regge più il passo coi tempi. Ogni backtest ha fallito, se senti ben Felix, ti dice tra 2 e 2,5%, se vedi early retirement now, ti dice 3,2 per 3, qualcosa per cento, io dico sempre non più di pi, non più di pi, non più di pi, quindi sotto il 3,14%. 3% è ragionevole, anche un po' ottimista, quindi non puoi ipotizzare il 4%. Ok, penso Ungheria del Sud, se no Croazia del Nord, a Croazia comincia ad essere un po' cara, l'Ungheria del Sud non la conosco, penso che il, ecco, Portogallo, sono in Portogallo, no, sono portoghese e vivo in Olanda, il mio consiglio è che con 600k, prendi una casa bella in Portogallo, di tua scelta, fuori dalle città principali, e ti posso garantire che ti piacerà il vino, eh, ce la fai, Rural Romania, perché? Perché è economico, Rural Romania, io sono stato nella Romania rurale, a un incontro di financial independence, e ho visto posti carini in realtà, ho visto posti semplici, senza strade asfaltate, con internet veloce, e c'è tutto, hai internet, non hai l'asfalto, non con central heating, cioè dovevi metterci dentro i pallet, però, anche a Bucharest, i costi, 400€ per affittare un appartamento, vicino alla metropolitana, bills sotto i 250, 50€ medical private insurance, ok, tasse, 16% capital gain tax, no, 1% forse, la gente non lo sa, è spandata a caso, ok, se in Romania si, puoi comprare una casa con 40k, in campagna, e viverci, molti, molti, molti villaggi hanno anche l'elettricità, attenzione, attenzione, questo qui fa, molti villaggi hanno anche l'elettricità, plumbing, quindi c'è addirittura anche una rete fognaria, hai delle tubazioni, e strade decenti, non sarà proprio exciting, ma se c'è una macchina, puoi raggiungere anche le città in due ore, ah ah ah, uff, ok, capital gain tax 10% e medical insurance, a couple hundred euros per year, però, ah, glad to hear you have plumbing and electricity, maybe a bit rustic for me, maybe, ma ecco, costa 100k, mica puoi vivere nel lusso, 40k for a house, you think we'll have central heating and a pool, ok, hey, you got a shop food, you got a shop food, I'm sorry, oh oh oh, only downside, is I heard in Romania, the mafia is cutting down all the trees, ok, ok, decent internet, ah, conferma le mie, conferma le mie conoscenze, rural Spain, i Balcani, sanità conoscenze, di parisi che la sanità, la devi fare, con, l'elettricità, quello che c'è ragazzi, quello che c'è, e che vuoi fare a questa 100k ragazzi, che vuoi fare a questa 100k, ah ah ah, che vuoi fare a questa 100k, a questa 100k, ah 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 ah, e che vuoi fare a questa 100k, ah 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 ah, Grazie a tutti